È un vero piacere congratularmi con il professor Silvio Micali per il conferimento del premio della Farnesina l'innovazione che parla italiano nella categoria delle start-up tecnologiche all'estero. Dopo il conferimento nel 2012 del prestigiosissimo premio Turing, il Nobel dell'informatica, si tratta di un ulteriore riconoscimento alla prestigiosa carriera scientifica del professor Micali all'MIT. La sua start-up Algorand ha saputo tradurre in prodotti e servizi innovativi i risultati dei suoi studi sull'economia della conoscenza e le blockchain. Le start-up tecnologiche rappresentano l'ideale collegamento fra imprese e ricerca applicata. Le aziende più dinamiche sono oggi quelle che applicano le innovazioni tecnologiche fondate sulla scienza. Ma il premio di oggi è anche un chiaro riconoscimento dello strettissimo rapporto fra Italia e Stati Uniti nel settore della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. E nel rinnovare le mie più vive congratulazioni a professor Micali, sono certo che il suo successo sarà di stimolo e di incoraggiamento a tanti giovani. Atma Iora Ringrazio molto l'ambasciatore Varricchio e sono davvero onorata di poter consegnare questo premio oggi al professor Silvio Micali. Boston, come noto, è uno dei centri di eccellenza a livello mondiale per l'innovazione, in cui start-up come Algorand trovano terreno fertile per nascere e svilupparsi. Questo anche grazie a personalità come Silvio Micali, che mettono a disposizione della scienza e dell'imprenditoria la creatività, l'ingegno, e il sapere e il saper fare italiani. Ma la figura del professor Micali, in qualità di docente dell'MIT, ha anche un'altra valenza. Parla infatti al cuore di tanti giovani che dall'Italia vengono a studiare nelle prestigiosi università americane, rafforzando quel legame tra Italia e Stati Uniti citato in apertura dall'ambasciatore Varricchio. Congratulazioni Silvio! Grazie mille Federica. È un grande onore ed un grande piacere ricevere il premio Maeci, per tanti motivi. In primo luogo perché riconosce la capacità di creare e la gioia di innovare che contraddistinguono gli italiani da sempre e ovunque. In secondo luogo perché testimonia l'impegno con cui il Ministero, la nostra ambasciata, il nostro consolato e il nostro console Federica impiegano per tenere coesa la comunità italiana all'estero. Il nostro mondo sociale, economico e fisico sta diventando sempre più complesso e la nostra sopravvivenza sarà legata alla nostra capacità di sviluppare tecnologie sempre più raffinate. Questa crisi finirà e con il nostro sacrificio, la nostra scienza e la nostra tecnologia ci costruiremo un futuro migliore e più giusto. Vive la tecnologia e vive il nostro grande Paese, l'Italia di sempre, l'Italia eterna, l'Italia di tutti.